Il Presidente della Giulia Carlo Cracco, il Paolo Gabrielecchini, Maurizio Sattini. Siamo arrivati al proclamare il terzo che ha vinto e dove siamo? Siamo lontani, in realtà vicini, viene da lontano e si chiama Geron, Geron di Lotto. Siamo arrivati al proclamare il terzo classificato, cominciamo a dare una mano di Alte Masi e la Targa Ricordo, ovviamente, del Festival degli Chef. Allora, la Targa Ricordo, la posta di Bianco, a Carlo, aiutati, il Presidente della Giulia. No, ma si è classificata in questo caso, Silvia Borgo, del Ristorante Borgo. Carlo? Allora, vogliamo anche spendere qualche parola? Sì. Beh, se vuoi spendere anche già sui due, i primi due piatti che gli hanno compito, il terzo e il secondo. Io, diciamo che Geron ha fatto molto bene, io il foie gras è da almeno dieci anni che ne lo mangio, la scelta, non sono francese per cui non mi sento in colpa, però è un grandissimo prodotto, su cui ho lavorato molto, però lui ha fatto un bel piatto. Completo, con delle punte molto alte, per cui veramente bravo. Silvia! Bravo! Silvia ha lavorato molto bene, forse il piatto più bello, anzi, senza il forse esteticamente perfetto. C'era a dire poco, nel senso che era talmente bello e buono che se l'è giocata sul film di Rana. E prima... Bravo! E prima... Primo, ovviamente, è quello più bravo. Ecco. Ma non è detto. Non è detto. Comunque, ragazzi, si vince oggi, però oggi, poi c'è domani, dopo domani, tutti i giorni, tutti i giorni. Ma oggi è la giornata di... Oggi invece vince questa terza edizione... Oggi è la giornata di... Oggi è la giornata di... Giovanni Ricciandella, della Cascina, 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 della Cascina. Bene, allora, allora, mentre io presidente... Grazie a tutti.